Le tue ragazze dicono che non vogliono parlare di impresa perché è una squadra che ha giocato molto bene a pallavolo. È una squadra innanzitutto che sa che ha dei limiti e sa che in questa pallavolo moderna non si deve mai smettere di lottare. Nonostante set bui come il secondo e il terzo, alla squadra ho chiesto se battiamo così non andiamo da nessuna parte. La squadra ha ripreso fiducia, sa che abbiamo delle energie nascoste e non si sa bene dove perché oggi ho avuto la defezione di Gennari ma niente di particolare. Il problema è che giocando spesso può capitare ma la forza di questa squadra è questa. Da Vizchi e Balazzovic hanno dato un gran contributo, è un'impresa sì ma è un passettino in una finale talmente lunga però esordire così va bene. Sentire parlare di Monza e lo Scudetto ti fa venire i brividi? No no, a Modena mi hanno detto la stessa cosa dopo gara 1, a Conegliano uguale. No no, ho imparato sulla mia pelle cosa vuol dire. Loro sono fortissime e quello che però mi ha reso molto felice è che non è stata una partita scontata e la squadra era sotto ma sotto anche mentalmente. Quindi dobbiamo pensare semplicemente a gara 2 in casa e un passettino in una volta. Che cos'è quello che ha fatto la differenza quando eravate così sotto nel tie break? Perché lì forse è stato il momento più difficile. Ma io quello che ho chiesto alle ragazze era sappiamo adesso come giocheranno. Il nostro obiettivo era mettere un pochino più ordine dopo l'ingresso di Curtin e dove siamo stati molto imprecisi. Se con Egon a volte è veramente difficile poter toccare e gestire con Curtin e Silla devono essere nelle nostre corde. Abbiamo spinto un pochino di più a servizio tanto come ho detto a loro nel time out sul 10-6 ho detto vi chiedo solo questo cambio palla perché adesso va in battuta a Sonia che ce la tira molto forte. Quindi è andata bene, la battuta fa la differenza contro di loro e poi probabilmente si sono innervosite. Due errori di Egon per noi sono stati oro colato e il cinismo con cui abbiamo chiuso mi rende molto molto felice. Però reset subito perché altrimenti qui è un problema.